Annarita Fagnano, coordinatrice dei progetti SAI, giornata del rifugiato a Santeria Pianisi, un momento di aggregazione sicuramente importante. Sì, la festa del rifugiato è un'occasione di grande integrazione per la popolazione migrante che è presente nel territorio di Santeria Pianisi. Noi gestiamo il progetto SAI del sistema di accoglienza e integrazione della popolazione migrante. Ospitiamo 26 persone, nuclei monoparentali, mamma bambino e donne singole. Grazie alla giornata mondiale del rifugiato possiamo portare avanti l'obiettivo di difendere i diritti della popolazione migrante e l'obiettivo principale soprattutto di integrazione sul territorio ospitante. Sicuramente è un evento importante, una manifestazione volta alla sensibilizzazione dello status di rifugiato perché è importante che venga sottolineato quella che è una situazione che a volte dimentichiamo. Il rifugiato è colui che lascia il proprio paese, scappa dal proprio paese perché lì non vengono garantiti, tutelati quelli che sono i loro diritti fondamentali, che nel nostro ordinamento sono sanciti e tutelati ed è un onore per noi poter essere il loro rifugio. Ci auguriamo che la nostra piccola comunità possa essere punto di ripartenza per loro, per augurare loro un futuro migliore. Un momento di confronto e di socialità che è sicuramente importante. Sulla stessa scorta della festa del rifugiato tenutasi già a Campobasso il 20 giugno scorso, come referente UAC, AS, LA Gorà e UC Provinciale, questa sera siamo qui a Sant'Elia a Pianisi dove abbiamo trovato grande sinergia per l'organizzazione di questa festa patrocinata dal comune stesso nell'ambito del progetto SAI di Sant'Elia a Pianisi che ospita 20 beneficiari. Siamo ben lieti di essere qui e di condividere questo momento di integrazione, di sensibilizzazione con i nostri ragazzi, in questo caso le nostre ragazze perché sono tutte beneficiari donne e soprattutto protagonisti saranno i bambini in quanto è una festa dedicata principalmente a loro questa sera che sta con la giusta animazione.